Siamo con il Cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, per parlare della celebrazione del 15 maggio in Piazza San Pietro. Eminenza, qual è l'importanza per la Chiesa di questa data? Diremmo che in un'unica celebrazione sono portate tante figure, diverse una dall'altra, diverse per la portata storica, la collocazione geografica, eccetera, e tuttavia ciascuna è un'immagine, un riflesso del volto di Cristo, pur nella loro diversità. Credo che sia questo un elemento molto importante. Una volta fu chiesto a Papa Benedetto XVI, fu chiesto se c'è un filo conduttore unico per la santità. Egli rispose che la santità è tanta o varia quante sono le persone sante. Ecco, questo fa vedere che ci sono modi diversi di rispondere, in tempi differenti, ma sempre l'unico che chiama è Gesù e l'unico a cui si risponde è Gesù. Per essere santi non servono i superpoteri, il messaggio al popolo di Dio è anche questo, giusto? Non servono? I superpoteri. Guardi, certamente le figure, le persone che sono canonizzate in questa circostanza sono la massima parte delle persone umili, le persone addirittura impotenti. Si pensi al primo martire indiano che è canonizzato, si chiama Lazzaro, è il nome tradotto in italiano, però la sua esistenza appartiene al secolo XVII. Pensiamo alla grande nota figura di Charles de Foucault. Charles de Foucault è un uomo che ha scelto il silenzio, è un uomo che ha scelto di essere appartato e tuttavia egli adesso è al centro della nostra attenzione. Questo vuol dire che non è il clamore, non è la potenza che li chiama, ma è quella semplicità e anche quella purezza di cuore di cui ha parlato Gesù nelle beatitudini. La celebrazione ci offre anche l'occasione per riflettere un po' sulla devozione popolare. Come sta cambiando alla luce delle dinamiche contemporanee? La devozione popolare è certamente stata al centro dell'attenzione anche del Concilio Vaticano II che però ha cercato di mettere in evidenza il primato della vita liturgica, dell'azione liturgica come azione di Cristo e della Chiesa. C'è stato poi il pericolo di vedere marginate queste realtà che tuttavia esprimono il cuore di un popolo. È perché noi sentiamo non soltanto con l'intelligenza, ma sentiamo con il cuore e sentiamo anche con il corpo. Pensiamo al San Domenico di Guzman per esempio, il quale ai suoi frati lasciava l'esempio di sette maniere di pregare, di mettersi con il corpo al crospetto del Signore. Il corpo è importante nella dimensione della preghiera, così come è importante il silenzio, così come è importante il canto e lo stare insieme. Papa Francesco ci tiene in maniera particolare alla pietà popolare, dove si esprime il cuore di un popolo e questi santi danno anche spazio a queste forme di devozione. Ci sono dei santi e delle sante fondatori di istituti religiosi che con la loro catechesi, pensiamo a Cesare de Buss, hanno cercato di incanalare non l'animo dei dotti, ma l'animo dei semplici. Il cardinale Newman, il santo cardinale Newman, dice che quando la Vergine Maria nell'annuncio dell'angelo chiede come avverrà questo, ci lascia capire che non esiste soltanto la fede dei dotti, esiste anche la fede degli umili e dei semplici. E la dimensione popolare in San Pietro è sottolineata visivamente anche dalla presenza di numerosi fedeli e pellegrini provenienti da tutto il mondo per la celebrazione del 15. Sì, certamente il numero dei santi canonizzati è questa volta un rilevante, quindi era prevedibile tutto questo accesso. Però questo fa capire che in realtà la risposta c'è. Io ho un'altra esperienza. Come prefetto della Congonazione delle cause dei santi mi recco nelle diverse chiese particolari per presiedere, a nome del Santo Padre, i riti di beatificazione. Mentre prima, quando c'erano i riti di beatificazione in Piazza San Pietro avevo l'idea che fosse sempre anche l'occasione per fare una gita a Roma, soprattutto per chi viene da lontano, eccetera. Adesso recandomi nelle chiese particolari mi accorgo che c'è davvero la fede di un popolo che reagisce e che quindi la santità non è un qualche cosa che viene coronata dall'alto, ma è un qualcosa che germoglia sul terreno della chiesa. E Piazza San Pietro si è organizzata per accogliere tutti questi pellegrini? Lei dalla finestra del suo studio ha potuto seguire i lavori organizzativi giorno dopo giorno? Suppongo di sì, non seguo da vicino queste ragioni di dettaglio, però sono anche sotto l'aspetto logistico per la Santa Sede degli eventi molto impegnativi, anche perché ci sia segno dell'accoglienza vera verso tanti pellegrini che vengono da lontano e questo è anche molto importante. E credo che su questo si pensa anche in... perché suppongo che nei mesi futuri ci saranno altri eventi simili, ci sarà certamente, adesso non è chiaro se sarà nella Basilica o la beatificazione di Giovanni Paolo I, che era vescovo di Roma, morto qui, quindi sarà beatificato qui direttamente dal suo successore, vescovo di Roma. Poi ci sono anche previste altre beatificazioni nell'autunno, eccetera. Cosa c'è dietro alle canonizzazioni anche per il suo di Castero? C'è tanto lavoro in occasione di questi appuntamenti? Anzitutto c'è molto ascolto, perché la prima cosa che si fa è ascoltare le testimonianze, soprattutto se sono testimonianze visive di persone che hanno avuto un contatto, o comunque hanno un ascolto diretto delle figure implicate. E questo chiede molta attenzione, molto discernimento. Sicché il primo lavoro è quello che si fa nelle chiese particolari, nelle chiese diocesane, per vedere se c'è realmente una... quella che tecnicamente la frase è un po' da spiegare, una fama di santità. Questa parola fama è un pochino da spiegare, perché oggi soprattutto con i mezzi di comunicazione la fama potrebbe essere confusa con la pubblicità, la fama potrebbe essere confusa con la notorietà. Ci sono tante persone che appaiono continuamente sugli schermi, parlano sempre, parlano di tutto, però c'è una reale fama per queste persone, o è qualcosa che scompare insieme con la televisione che si spegne. Ecco, se c'è questa risposta nel popolo di Dio, ci sono tanti santi per i quali c'è una risposta spontanea, inattesa, e presso la rotomba si fa pregare, vengono chiese delle intercessioni. Ecco, voglio dire che il primo momento nasce nelle chiese particolari, però si deve fare un grande lavoro di raccolta per le testimonianze e di un discernimento e di una sintesi per vedere se questo indica realmente la santità di una persona. Ultima domanda, Eminenza. Molti fedeli sono preoccupati per le condizioni di salute del Papa, cosa possiamo dire al riguardo? Io scherzando dico che forse si spiega l'uso della sedia gestatoria per i papi, sino a Giovanni Paolo I, hanno usato la sedia gestatoria. Adesso, per non pesare sulle spalle di quelli che lavorano in Vaticano, si usa la sedia. È normale che una persona sia inferma, poi una malattia di questo tipo e poi sia accompagnata. La salute del Santo Padre è quella che è buona, basta sentirlo parlare, ha la stessa verve che la dimostra anche nelle udienze. È una difficoltà fisica che noi ci auguriamo possa essere presto superata. Io scherzando ancora dico che per guarire da un ginocchio occorre star fermi e il Papa è un po' difficile tenerlo fermo.